Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati qui sul canale della cucina chimica. Eccoci al secondo appuntamento dei video di molecole stupefacenti. Nella playlist andiamo ad esplorare le caratteristiche biologiche di alcune fra le sostanze d'abuso. Vi ricordo che i video sono al solo scopo di affrontare le caratteristiche chimiche e farmacologiche di questi composti e saranno di carattere divulgativo ed alla fine poi troverete tutti i riferimenti bibliografici. Il video come potete già vedere dal minutaggio è un pochino lunghetto, vi dico subito quello che andiamo ad affrontare così potrete selezionare gli aspetti che più vi interessano. I video più o meno avranno sempre la stessa struttura. La parte del lessico sul significato sia della parola droga che stupefacente l'abbiamo già affrontata nel primo video di cui vi lascio il link sia in descrizione che qui in alto a destra, eccolo. Qui oggi invece partiremo dalla storia dell'anfetamina, come nasce, da dove deriva e qualche cenno sulla sua struttura chimica. Dedicheremo poi come sempre qualche minuto alla farmacocinetica, cioè come si muove il farmaco all'interno del nostro organismo e successivamente alla farmacodinamica, cioè quello che fa il farmaco, quindi il meccanismo d'azione. Infine faremo anche un accenno alle problematiche a livello della salute senza ovviamente entrare nelle problematiche sociali e nemmeno nelle statistiche di abuso. Magari ogni tanto un accenno, ma ripeto è solo un accenno. Come ho detto nella scorsa puntata e lo ripeterò anche nei prossimi video, lo scopo di questa playlist riguarda maggiormente gli aspetti chimici e biologici di questi composti. Parole di rito e ora partiamo. Secondo video, seconda sostanza d'abuso, ecco a voi l'anfetamina. Parliamo innanzitutto dell'origine di questo composto. Una caratteristica comune a molte sostanze, le possiamo chiamare pure droghe, è che l'origine parte più o meno sempre da qualcosa di naturale, quindi a partire da piante, e in questo caso la pianta in questione è l'efedra vulgaris, famiglia delle efedracee come vedete qui. Una pianta molto promettente nel panorama della farmacologia, di cui qui vediamo una immagine presa da un erbario online. Questa pianta produce un composto che è un alcaloide ed è l'efedrina, che ha potenti effetti stimolanti ed è considerata diciamo come fosse una anfetamina vegetale. Questa è la sua struttura chimica, in realtà questa molecola può esistere in diverse forme, ma ne parleremo magari meglio dopo. Di piante appartenenti al genere efedra ce ne sono tante, ma non tutte sono produttrici di composti psicoattivi, quindi non tutte le efedra producono efedrina. Queste piante sono diffuse come abbiamo detto sia in Asia ma anche in Europa e un pochino anche in Nord Africa. La medicina tradizionale ha usato queste piante proprio per i suoi metaboliti. La medicina indiana per esempio la chiama Soma ed è usata per migliorare lo stato di salute, per scopi spirituali. La ritroviamo anche nella medicina cinese chiamata Ma Hong ed era una pianta utilizzata più di 5.000 anni fa per trattare per esempio le tossi, i raffreddori e anche per aumentare la concentrazione e lo stato d'allerta. L'efedrina di fatto, essendo un broncodilatatore, era un rimedio estremamente efficace nella cura dell'asma, ma veniva utilizzato come abbiamo visto prima anche per stimolare l'organismo in generale. Lo si poteva bere come infuso, come un tè, e il motivo è di natura sostanzialmente chimica. Ricordiamo che fare un infuso altro non è che una tecnica di estrazione, dove il solvente è l'acqua e in questo caso alcuni principi attivi di queste piante sono solubili in acqua calda. Anche qui incontriamo alcuni personaggi, il primo è Nagayoshi Nagai, che era un farmacista, e nel 1885 riuscì ad estrarre l'efedrina, che è l'alcaloide di cui abbiamo parlato prima, appunto lo estrasse dalla pianta di efedra. Siamo sempre negli stessi anni più o meno, e nel 1887 il chimico rumeno Lasar e Deleanu, spero di aver pronunciato bene, fu quello che sintetizzò in laboratorio la prima anfetamina, che aveva lo scopo di essere un sostituto di sintesi dell'efedrina, il composto che abbiamo visto prima. Uno degli scopi era anche quello di curare l'asma. Qualche anno dopo però, siamo intorno al 1932, si mette in commercio la benzedrina. La benzedrina altro non è che un'anfetamina. Così iniziò ad essere venduta in dispositivi che venivano inalati, eccoli qui, che sono dei veri e propri inhaler. Il successo fu immediato, sia perché funzionava bene per l'asma, ma anche perché aveva delle proprietà stimolanti. Ricordiamo che l'anfetamina e composti anfetaminosimili hanno tutti proprietà stimolanti. Così, per curiosità, vi porto un piccolo passo di questo libro di Carey Mullis, uno scienziato molto eccentrico, che ha vinto il premio Nobel per la PCR, che è appunto in questo suo libro, dal nome Ballando nudi nel campo della mente, scrive, leggo testualmente, quando avevo il raffreddore mi comprava un inalatore per benzedrina, riferito alla madre. Dentro l'apparecchio c'era un pezzettino di cotone che veniva saturato di anfetamina. Era un tubetto di plastica biancastra che costava 39 centesimi ed entrava comodamente nella mia tasca. Potevo sedermi di fronte alla signora Coleman, la mia insegnante di prima elementare, e smiffare tranquillamente. Dava sollievo quando avevi il naso intasato e ti tirava su se il raffreddore cercava di buttarti giù. Quindi ecco, questa è la sua testimonianza diretta. Gli inhaler erano questi che vedete in figura, che contenevano proprio la benzedrina. Abbiamo detto la benzedrina è anfetamina. Il benzedrin era usato per le congestioni nasali e si acquistava liberamente senza alcuna prescrizione medica. Esisteva anche in pastiglie. Capite bene che proprio per il fatto che sia stato di libera vendita, poteva predisporre gli utilizzatori a dosi massive di questo farmaco. Guardiamo anche un attimo le somiglianze strutturali di questi composti. Allora, questa è l'efedrina, l'alcaloide estratto dalla pianta dell'efedra. Questa invece è l'anfetamina, ovvero il principio attivo dell'inalatore della benzedrina. Sono molto simili. Inoltre, data la somiglianza strutturale dell'anfetamina con l'adrenalina, vedete qui, diciamo che fu considerata come se fosse un sostituto artificiale dell'adrenalina. Poi però, nel 1935, i medici avviarono i primi test clinici per indagare i possibili campi di applicazione di queste anfetamine. Parlo di anfetamine nel senso di famiglia di molecole con struttura simile. Per queste qualità farmacologiche, nel secondo conflitto mondiale, le anfetamine vennero massicciamente distribuite ai soldati praticamente di tutti gli stati coinvolti nella guerra, perché sono dei potenti stimolanti. E raccontiamo ora qui due cose sui fatti storici. Il fatto di non sentire la stanchezza, la fatica, nemmeno il sonno, diminuire anche il senso della fame, l'aumento della fiducia in se stessi, che poi spinge anche ad avere più coraggio e a compiere anche degli atti eroici e, diciamo, anche a sottovalutare il pericolo, era molto importante ai fini dell'esito del conflitto. I soldati, che ovviamente sono in guerra, vivono costantemente il pericolo. Venne usata anche dai piloti di aerei per rimanere vigili e attenti durante le missioni. Insomma, si può comprendere che nelle guerre mantenere alta l'attenzione fa la differenza. Sempre su questo tema vedete qui il pervitin. Viene chiamata la droga della Seconda Guerra Mondiale ed è stata usata molto dall'esercito tedesco. Anche qui la storia ci insegna che è stata sintetizzata per aiutare i soldati a sostenere le fatiche di guerra, diciamo così, ma anche perché poi la Germania in quegli anni era molto avanti sul piano della chimica e sul piano della sintesi e riuscì a prodursi questo farmaco, il pervitin, andando a migliorare quelle che erano le caratteristiche della benzedrina, ovvero della anfetamina. Il pervitin è un composto derivato dall'anfetamina, infatti come vedremo è la metanfetamina. Dall'uso di questi composti nella guerra per gli soldati e poi non essendoci delle leggi che regolamentavano l'uso, piano piano si sono diffuse anche nella popolazione, come vedremo dopo. In più la chimica attraverso la sintesi si è spinta a cercare dei composti che avessero maggiori effetti. Dall'anfetamina, o meglio dalla benzedrina, si è isolato la destro-anfetamina, molto più potente della levo-anfetamina. Ora spieghiamo un attimo cosa significa destro e levo, giusto per dare due informazioni di chimica organica. Dunque le molecole non sono piatte come le disegniamo noi, come vedete in questi grafici. Questa chiaramente è solo una semplificazione. Le molecole in realtà sono orientate nello spazio a secondo della loro struttura e ci sono stesse molecole con i sostituenti, cioè gruppi di atomi, che possono mettersi secondo un orientamento o un altro, dipende chiaramente dalla loro forma. Nella benzedrina vi erano entrambi i tipi di anfetamina, cioè destro-anfetamina e levo-anfetamina. Infatti una miscela di questo tipo si chiama miscela racemica. Ci si era accorti che la destro-anfetamina era molto più potente, in senso farmacologico, della levo-anfetamina. Allora la si è isolata, cioè si produceva praticamente solo la destro-anfetamina, e infatti fu fatta la dexedrina. Continuano negli anni le varie sintesi alla ricerca di composti più potenti e si arriva alla metanfetamina, che spesso conosciamo come met. Ecco, è proprio lei la molecola del permittim. Questa modifica strutturale apparentemente molto semplice, perché di fatto ci sono pochi atomi in più, si rivela molto molto potente a livello di effetti farmacologici, perché conferisce al composto una maggiore liposolubilità, il che significa che si scioglie meglio nei grassi, quindi passa meglio le barriere cellulari e dunque arriva meglio agli organi di bersaglio. Nello specifico è il cervello, quindi arriva prima il cervello ed effettua un'azione più potente. In questa slide vedete quanti composti anfetaminosimili ci sono, quindi sono tutti derivati da sintesi chimica per aggiunta o sostituzione di gruppi e che quindi vanno a dare effetti diversi sul sistema nervoso. Va da sé che poi tutte queste molecole hanno tutta una serie di effetti collaterali. Tra l'altro vedete qui in questo slide proprio al centro l'MDMA che altro non è che l'ecstasy, altro composto anfetaminosimile dà le proprietà un po' particolari, perché come vedremo poi nel video specifico dell'ecstasy, è una molecola che ha sia proprietà stimolanti ma anche proprietà allucinogene e quindi rientrano in composti strutturalmente anfetaminosimili ma con effetti diciamo di tipo allucinogeno, ma poi ne vedremo meglio. Parlavamo di diffusione fra i soldati, che poi è diventata una diffusione nella popolazione, eccone degli esempi. Servivano a dare quell'aiuto in più alla vita quotidiana, quello stimolo alla fatica? Ovviamente non si conoscevano molte nozioni che abbiamo in possesso oggi e ne abbiamo parlato anche nel video precedente, cioè all'inizio si utilizzano delle sostanze che poi si scopre purtroppo che si danno l'effetto benefico, ma c'è tutta una serie di effetti negativi che di gran lunga superano i benefici e quindi ovviamente poi intervengono gli enti regolatori e si ritirano dal mercato. C'è da dire anche che 70-80 anni fa non vi erano tutte quelle garanzie che ci sono adesso, infatti ora possiamo essere abbastanza certi della sicurezza di quello che viene messo in commercio, in quanto tutto l'iter burocratico e di regolazione è molto molto più lungo, soprattutto nel campo alimentare e farmaceutico. Poi ecco vi era anche una grossa pubblicità di questi chiamiamoli aiutini per la vita quotidiana, ecco qui vari esempi di pagine di giornali, vedete anfetamine per l'obesità, anfetamine per essere più svegli e performanti, insomma ce n'è per ogni occasione e tanto fu la diffusione di queste sostanze che poi ha anche colpito l'immaginario collettivo e alcuni artisti ci hanno fatto anche delle canzoni, non solo cantanti ma poi anche scrittori, artisti, attori, registi, qualche filosofo. Pian piano però capite bene che con la diffusione e l'utilizzo di queste sostanze da parte della popolazione inizia anche la consapevolezza che probabilmente occorre regolamentare tutto questo, occorre creare delle norme e cercare poi anche di porre rimedio agli errori fatti in passato. All'inizio degli anni 60, siamo intorno al 1965, ci fu questo Federal Act che serviva proprio a limitare l'accesso a queste molecole e a ridurre le dipendenze e poi anche tutti i rischi e i problemi che ne derivano. Qui siamo ancora all'inizio ma negli anni a seguire, come vedete anche qui da questa infografica cronologica, ci sono stati tanti interventi e su vari tipi di droghe. Ok, tutta questa storia che è davvero riassunta in pochi minuti e non pretende assolutamente di essere esaustiva serve per darvi l'idea che comunque vi è sempre una linea comune per queste sostanze d'abuso e la ritroveremo anche con altre molecole. Si inizia diciamo con l'uso nella medicina tradizionale e comunque in popolazioni antiche, poi piano piano si isolano i principi attivi, poi con le conoscenze chimiche che progrediscono, si sintetizzano molecole prima simili e poi si inizia a modificare la struttura e alla fine parte delle popolazioni ne fa uso e si rilevano poi tutti gli effetti e i problemi che ne derivano. Due parole sulla classificazione. L'anfetamina, lo abbiamo già visto prima, è una sostanza stimolante, la vediamo anche in questa classificazione. Ecco, qui troviamo sempre fra gli stimolanti anche i derivati anfetaminici, su cui poi faremo un accenno alla fine del video. In un altro tipo di classificazione invece si vede che l'anfetamina è sempre uno stimolante, invece ad esempio l'ecstasy con la sua abbreviazione chimica MDMA che sta a significare metilendiossi metanfetamina, questa diciamo strutturalmente è un derivato anfetaminico perché deriva da modificazioni strutturali, invece rientra, vedete, come azione tra gli allucinogeni. Questo per dirvi che i modi di classificare le sostanze sono diversi. Parliamo di struttura chimica, le abbiamo già viste un pochino, ma ne riparliamo qui. Dunque, sull'anfetamina possiamo dire che è un derivato sintetico della feniletilammina, come vedete nell'immagine. La feniletilammina è un composto presente in natura che si trova per esempio nel cioccolato, nei formaggi, in alcuni vini, chiaramente a bassissime concentrazioni, e ha una struttura simile alla dopamina. Se consumata come alimento perché si trova negli alimenti, la feniletilammina chiaramente non ha l'effetto dell'anfetamina, sia per le dosi che troviamo negli alimenti, sia perché comunque non è proprio la stessa molecola, e poi anche per il discorso del metabolismo. Infatti ci sono degli enzimi, che sono chiamati MAO, ovvero mono-ammino-ossidasi, che degradano questa tipologia di molecole. Ora, l'anfetamina, proprio per avere il gruppo CH3, che è un gruppo mitilico su questo carbonio qui, che si chiama carbonio alfa, proprio questo piccolo gruppo fa sì che la molecola dell'anfetamina sia protetta dalla degradazione delle MAO, e quindi se non viene degradata continua a persistere e a fare la sua azione. Ancora, se parliamo di MET, la metanfetamina differisce dall'anfetamina per l'aggiunta di un gruppo metilico sull'azoto basico qui, sulla catena laterale, e questa modifica fa diventare il composto ancora più potente. Arriviamo ora all'ecstasi, ovvero l'MDMA. È sempre un derivato strutturale anfetaminico, ma ha un potere allucinogeno. Ecco, la presenza del gruppo che vedete qui, che è un gruppo metilendiossi, che si trova sul C3 e sul C4 dell'anello, conferisce delle proprietà particolari, e poi ne parleremo successivamente. Abbiamo anche parlato di anfetamina come miscela racemica, ovvero destroanfetamina che è più potente e legoanfetamina che è meno potente. Le rivediamo qui, ma ne abbiamo parlato sopra quando abbiamo parlato della benzedrina. Farmacocinetica. Partiamo adesso con la farmacocinetica. Vediamo, come sempre le fasi, assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Diciamo che l'assorbimento è molto simile all'assorbimento della cocaina. Le vie di somministrazione sono sostanzialmente le stesse. Può essere assunta per via orale, come per esempio erano le compresse di benzedrina degli anni 30-40 in guerra, oppure per via inalatoria con i dispositivi inaler, e può essere anche in qualche modo fumata o anche iniettata per via endovena. Date le diverse vie di somministrazione, essendo anche la sua solubilità elevata, l'assorbimento avviene in maniera veloce, e poi possono essere chiaramente differenze in base alla struttura nei casi di composti derivati dall'anfetamina. La distribuzione nell'organismo deriva anche dalle proprietà chimiche dei composti. Proprio per la sua buona solubilità in acqua, l'anfetamina si solubilizza nel sangue e va subito negli organi maggiormente diffusi, ovviamente cervello compreso. Parliamo ora di metabolismo. Per quello che riguarda il metabolismo, questa immagine, diciamo, riassume bene i maggiori pathway metabolici subiti dall'anfetamina. Rimaniamo però sul semplice e individuiamo che la molecola dell'anfetamina viene, vedete, deaminata oscillativamente, oppure beta-idrossilata, oppure para-idrossilata, e così via poi dà origine ad altri composti. In quest'altra immagine troviamo sempre il metabolismo, però si indica anche l'isoforma dell'enzima che effettua la specifica reazione. Dovete sapere che l'attività dei farmaci dipende molto anche da come vengono metabolizzati. Ci sono individui che, per esempio, geneticamente esprimono maggiormente una isoforma di un enzima piuttosto che un'altra, e quindi possono essere dei metabolizzatori più veloci, oppure dei metabolizzatori più lenti. Questo è cruciale perché quando parleremo dell'ecstasy, proprio questa isoforma che vedete qui, la CIP2D6, ne è responsabile. Ecco qui, vi evidenzio poi la frase riportata proprio nell'articolo. Ok, parliamo adesso di eliminazione. Per questi composti l'eliminazione è a carico dei reni, quindi viene eliminata attraverso le urine. La maggior parte dell'anfetamina viene eliminata tal quale non metabolizzata dalle urine, perché abbiamo detto che è solubile in acqua, insieme anche a metaboliti deaminati e metaboliti idrossilati, che sono sempre abbastanza solubili. Una piccola frazione dell'anfetamina assunta poi viene anche metabolizzata a livello epatico. L'iscrezione urinaria di questa sostanza è pH dipendente. Infatti se le urine sono acide è più facilmente eliminarla, perché l'anfetamina ha un carattere basico. Invece se le urine sono basiche l'eliminazione è inferiore. Il motivo anche qui è puramente chimico, in quanto il pH urinario va a modificare il grado di ionizzazione di acidi e basi deboli, e quindi tutti i processi di secrezione e di riassorbimento a livello tubulare ne vengono influenzati. Ecco perché se noi andiamo ad acidificare le urine si facilita la rimozione di farmaci con un carattere basico. Se invece andiamo ad alcalinizzarle renderemo più facile l'eliminazione dei farmaci acidi. Parliamo di farmacodinamica, quindi di meccanismo d'azione. Le anfetamine sono dei composti che abbiamo definito molecole simpatico-mimetiche, cioè vanno a mimare l'azione delle amine endogene. Abbiamo visto, anche nelle slide precedenti, come vi è un'analogia strutturale tra l'anfetamina e le catecolamine, come l'adrenalina, noradrenalina e dopamina. Quindi l'anfetamina e composti anfetaminosimili sono degli stimolanti del sistema nervoso centrale, e di questo ne abbiamo già parlato. Ora, qual è il meccanismo d'azione? Cioè, come fanno ad esplicare la loro azione? Queste molecole producono i loro effetti potenziando la neurotrasmissione della dopamina nel cervello, specialmente nelle aree limbiche come il nucleus accubens. Vedete qui una bella immagine. Innanzitutto, l'anfetamina entra nell'assone presinaptico terminale attraverso diffusione, oppure attraverso i trasportatori DAT, NET e CERT, che sono rispettivamente il trasportatore della dopamina, il trasportatore della noradrenalina e il trasportatore della serotonina. Eccoli qui, ve li ho cerchiati per metterli in evidenza. Perché questo avviene? Perché, lo abbiamo detto prima, vengono scambiate per neurotrasmettitori, proprio per la loro somiglianza strutturale. Ok, una volta che la nostra anfetamina è dentro il neurone, che cosa fa? Agisce in diversi modi. Prima di entrare nel dettaglio, dobbiamo sapere che nel neurone abbiamo due pool diversi di neurotrasmettitori. Quello citosolico, cioè i neurotrasmettitori che si trovano nel citosol, e quelli vescicolari, ovvero i neurotrasmettitori che si trovano all'interno di piccole vescicole. Infatti, quando i neurotrasmettitori sono sintetizzati, anziché stare lì liberi, vengono accumulati, vengono portati nelle vescicole attraverso un trasportatore specifico che si chiama VMAT2, e questo avviene normalmente. Se però nel neurone vi è l'anfetamina. Questa anfetamina che cosa fa? Essendo strutturalmente simile ai neurotrasmettitori, viene, diciamo, scambiata per uno di essi, si lega al VMAT, cioè a questo trasportatore, e lo blocca, perché per entrare ci entra, ma non lo fa funzionare. Ok? Diciamo così, passatemi questa estrema semplificazione. Il risultato di questo blocco è che le vescicole non possono riempirsi di neurotrasmettitori, quindi rimangono scariche, rimangono vuote, e nel neurone vi sarà una concentrazione di neurotrasmettitore maggiore. Altra cosa che fa l'anfetamina è bloccare il metabolismo dei neurotrasmettitori. Infatti, vi ricordate che avevamo accennato alle MAO, ovvero le monoaminoossidasi? Bene, questi enzimi, monoaminoossidasi, quindi terminazione asi, appunto, significa enzima, degradano le amine endogene, ma se c'è qualcuno che le blocca, questi neurotrasmettitori, quando sono in circolo, non vengono più degradati, e quindi rimangono più tempo in giro, diciamo. E se sono più tempo in giro, aumenta la loro azione nel tempo e anche l'intensità. Altro interessante meccanismo d'azione, e che poi ha anche effetti sull'interorganismo, è che l'anfetamina e i composti anfetaminosimili hanno affinità per un recettore chiamato TAAR1. Quindi l'anfetamina si lega a questo recettore e si attiva una via di segnale attraverso la PKA, la proteinkinasi A, e la PKC, la proteinkinasi C, che fosforilano il trasportatore DAT. Ricordiamo che il trasportatore DAT è quello specifico per la dopamina. Il trasportatore DAT così fosforilato viene ora internalizzato, ok? Il recettore DAT, ricordiamo, è quello che fa entrare normalmente la dopamina all'interno del neurone, insomma il recettore del reuptake. Quindi se questo recettore DAT viene internalizzato, significa che il neurone in pratica non lo esprime più come prima, ed è un po' come andare a murare una porta, cioè non si può più entrare. Quindi che cosa succede? La dopamina e le altre monamine che sono fuori rimangono fuori e continuano a fare la loro azione. Inoltre se viene fosforilato questo DAT si emette a funzionare al contrario, cioè funziona in maniera inversa rispetto a quella che solitamente ha, e provoca un efflusso, cioè un'uscita della dopamina dal neurone. Ecco qui vedete un'altra immagine presa da uno studio. L'anfetamina si lega al DAT, vedete questo è l'ovale arancione, e viene trasportata nel neurone, vedete qui la freccettina tratteggiata. Una volta che l'anfetamina è dentro, questa fa sì che aumenti il livello di calcio intracellulare. Il calcio stimola a sua volta l'azione della calcio-calmodulina kinasi 2-alfa e della proteine kinasi C, e anche una maggiore fosforilazione del DAT. Il DAT però, fosforilato per la via della PKC, inverte il suo verso, cioè in pratica porta la dopamina che sta dentro il neurone fuori. Ecco perché si chiama efflusso. Ora, questo è detto in maniera semplice, ma è un pochino più complesso. Ci sono anche poi altri attori in gioco, e ancora tutto questo meccanismo è parzialmente chiaro. Ad ogni modo abbiamo investigato sul meccanismo d'azione dell'anfetamina. Finalmente arriviamo a parlare degli effetti sulla salute dell'anfetamina. Dunque, affermando che la famiglia dell'anfetamine sono delle molecole con azione simpatico-immetica, queste esercitano le loro azioni periferiche e centrali, in gran parte provocando il rilascio dei neurotrasmettitori che abbiamo visto prima, cioè noradrenalina e dopamina. Da dove? Dalle terminazioni nervose presinaptiche. L'effetto finale che si ottiene è che quindi c'è più dopamina disponibile in circolo. Le risposte farmacologiche variano in base al tipo di anfetamina, perché ci sono quelle meno attive e quelle più attive. Se ci ricordiamo bene, bastavano anche piccole modificazioni strutturali alla molecola. Poi, anche in base al dosaggio e anche in base alla via di somministrazione, quindi diciamo che è sicuramente complesso andare a fare tutto un quadro. Però possiamo dire che a un basso dosaggio tutte le anfetamine, un po' tutte, aumentano la pressione sanguigna, danno tachicardia in quanto vanno ad agire sui recettori adrenergici, poi danno anche un'azione broncodilatatoria e anche qui, se ricordiamo all'inizio, la benzedrina veniva proprio inalata nei casi di asma e raffreddori. La risposta quindi che arriva al corpo è quella di rimanere in allerta, di avere un'alta tensione, di essere vigile. Tutto ciò può anche arrivare ad euforia, eccitazione, aumento dell'attività motoria, un ridotto senso di fame, non si avverte la fatica e si ha anche una maggiore sensazione di grandezza, di potenza. Anche qui, se ricordiamo, sono tutte azioni che erano sfruttate per la guerra. L'anfetamina nel breve periodo dà anche una grande carica, una grande spinta per una prestazione fisica, ok? Però, se andiamo a vedere le capacità motorie fini, quelle di precisione, quelle legate a movimenti veloci e brevi, non so, magari qualche tipo di sport di precisione, ecco, queste capacità vengono deteriorate. Salendo con le dosi gli effetti crescono, aumentano l'intensità e si aggiungono anche altri effetti, come una stimolazione della respirazione, tremori, irrequitezza, un maggiore aumento dell'attività motoria, dell'insonnia, dell'agitazione e ancora, insomma, le anfitamine poi prevengono l'affaticamento e vanno a sopprimere l'appetito e promuovono poi la veglia, addirittura fino a condizioni proprio di privazione del sonno. Salendo ancora con le dosi si arriva chiaramente a peggiorare tutto questo quadro, peggiora l'ansia, iniziano a comparire comportamenti ossessivi, disturbi di panico, delle paranoie, addirittura proprio una psicosi, insomma. Negli assuntori cronici si possono osservare dei comportamenti stereotipati, come per esempio degli movimenti continui, ripetitivi, anche inutili, ecco. Sembra superfluo aggiungere, ma lo diciamo, la maggior parte dei consumatori cronici di anfitamine ad alte dosi chiaramente mostra anche un progressivo deterioramento di tutti gli aspetti della loro vita, come quella personale, sociale e professionale. Parliamo adesso degli usi in terapia. L'uso di questi composti in terapia è ormai quasi legato a pochissime situazioni. Prima le anfitamine erano molto diffuse, invece poi con il trascorrere degli anni, proprio per il loro potere d'abuso, sono state limitate sempre a situazioni più precise, più circoscritte e comunque sempre sotto uno stretto controllo medico specialistico. Ad oggi le condizioni per cui se ne fa un uso autorizzato sono la narcolessia e la DHD. Vediamo prima gli usi nella narcolessia. Dunque diciamo innanzitutto che cos'è la narcolessia, giusto per capirci. La narcolessia è sostanzialmente una patologia cronica di tipo neurologico che provoca degli improvvisi attacchi di sonno durante il giorno. I soggetti praticamente mentre svolgono qualsiasi loro attività, anche coinvolgente, tipo parlare, camminare, lavorare, ad un tratto si addormentano improvvisamente. Quindi sono degli attacchi di sonno improvvisi. Capite bene che una condizione di questo tipo è abbastanza invalidante. Le cause al momento non si conoscono esattamente. Ora vi racconto una cosa, giusto per capirci e avere una bella metafora di questa narcolessia. Il professor Solomon Snyder, grandissimo neuroscienziato, usava una bella storiella per far capire il concetto della narcolessia e la diceva ai propri studenti. Dice se qualcuno di voi dovesse addormentarsi mentre faccio lezione sarebbe perfettamente normale. Se mi addormentassi io invece sarei un narcolettico. Quindi direi che insomma le sue parole rendono bene il concetto. Il trattamento farmacologico può includere derivati delle anfetomine come il modafinil, cui nome del farmaco è Provigil, che sempre con i meccanismi che abbiamo visto prima vanno a stimolare il sistema nervoso promuovendo lo stato di veglia e di vigilanza. Anche il metilfenidato famoso Ritalin viene usato per la narcolessia. Dico anche perché con il Ritalin ci andiamo a collegare ad un altro uso terapeutico delle anfetamine, cioè la DHD. Innanzitutto ADHD sta per Attention Deficit Iperactivity Disorder, cioè disturbo da deficit di attenzione di iperattività. È una condizione in cui i bambini che ne sono colpiti non stanno praticamente mai tranquilli. Quando sono piccoli non stanno mai fermi e poi crescendo magari possono anche avere un rendimento scolastico scarso, perché si vanno a interessare a tutto tranne al compito che magari gli viene assegnato. L'applicazione di questi composti anfetaminici in una condizione di questo tipo può sembrare anche paradossale, se vogliamo, nel senso che perché devo andare a somministrare dei composti stimolanti a soggetti che già di per sé sono iperattivi, in questo caso i bambini. La realtà è che funzionano bene e in poco tempo. In pratica questi composti non vanno a calmare i bambini, vanno però a potenziare lo stato vigile esattamente come negli adulti. Quindi succede che questi soggetti, questi bambini, diventano capaci di concentrarsi su un solo compito per volta e questo quindi va a normalizzare una situazione generale aumentando così le prestazioni cognitive e l'attenzione. Ora, questo chiaramente è davvero spiegato in due parole perché servirebbe solo un video a parte per tutta questa condizione. Oltre al Ritalin si utilizza anche l'Adderal e questi insomma sono tra i farmaci più usati. Ovvio che sempre e solo sotto stretta osservazione di specialisti e in situazioni veramente importanti, dove chiaramente ci sono poi tutte le valutazioni che portano appunto all'autorizzazione all'uso di queste molecole. Un uso invece che è stato fatto delle anfetamine e dei composti similari è stato quello nel trattamento dell'obesità. Questo perché, lo abbiamo già visto, agiscono attraverso il loro meccanismo d'azione sopprimendo l'appetito o comunque allungando i tempi fra i pasti. Quindi il soggetto viene portato ad un decremento dell'introito calorico e quindi perde peso. Certo è che l'anfetamina tal quale, anche se ha questa azione, poi c'è tutto il problema dell'abuso che abbiamo già affrontato e inoltre poi negli assuntori si sviluppa in breve tempo anche una tolleranza a questo effetto. Quindi queste sostanze oggi non vengono praticamente più usate né raccomandate per il trattamento dell'obesità. C'è da dire che i ricercatori poi si sono messi comunque all'opera per trovare un modo di modificare questi composti ed avere delle molecole che non avessero un potere d'abuso ma che agissero solo sull'appetito, andando quindi a produrre dei farmaci come per esempio la fenometrazina, la cui formula la vediamo in figura, ecco qui il farmaco è il preludin, o anche la fenometrazina. In più vi è anche la fenfluramina, il farmaco è il pondimin, questo qui in realtà si è dimostrato veramente efficace nel perdere il peso, non ha effetti stimolanti, anzi al contrario fa addormentare. Alla fine però comunque non ha avuto un grande successo commerciale. Bene, ecco il video lo facciamo terminare qui e vi dico che abbiamo affrontato solo alcuni degli aspetti di questa sostanza. Come sempre io ho cercato di darvi parecchi spunti per riflettere, soprattutto su una problematica molto importante che riguarda le sostanze di abuso. Se volete aggiungere, approfondire qualcosa, dirmi che cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti, io sarò felicissimo di leggervi e di rispondervi, in quanto i feedback, le critiche e tutte le ulteriori informazioni servono chiaramente a completare il contenuto del video e dei video in generale. Come sempre io vi ricordo che se avete piacere di iscrivervi al canale e supportarmi è molto molto semplice, basta cliccare su iscriviti e il gioco è fatto. E se desiderate potete anche attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità, è tutto sempre gratuito. Come sempre per qualsiasi informazione o curiosità scrivimi alla cucinachimica chiocciolagmail.com e noi ci vediamo al prossimo video.